L'ospedale di Pescara chiede lo stop temporaneo ai ricoveri di pazienti affetti da Covid-19 perché la struttura al momento non è più in grado di gestire gli elevati numeri. La richiesta è stata avanzata alla Regione Abruzzo. Le criticità riguardano i posti letto e soprattutto il personale. E proprio in questa direzione va l'appello della ASL che chiede subito rinforzi, considerato che i pazienti gestiti sono la maggior parte di quelli della Regione. Una sospensione almeno di un paio di giorni, dirottando i casi positivi sugli altri presidi sanitari della Regione come il vicino ospedale di Chieti consentirebbe di riorganizzare il tutto. Si sta lavorando su dimissioni precoci dei pazienti meno gravi con l'obiettivo di liberare dei posti mentre è in corso il trasferimento dei pazienti della medicina in alcune cliniche private così da recuperare nuovi spazi da destinare all'emergenza coronavirus.